Signore e signori siamo qua in questo momento difficilissimo vi voglio presentare un uomo coraggioso un uomo che ha deciso nel 2011 di sposarsi 2012 mamma mia è sempre più difficile ciao come ti chiami? Walter Walter come vai questa missione suicida? non lo so nemmeno io sei innamorato? no è incinta? no allora che cazzo fai? no dai pari di scherzi che giorno è che ti sposi? 7 dicembre 7 dicembre? come si chiama la tua bella? Silvia te che siete assieme? un anno e mezzo poco no è sufficiente è sufficiente se lo scelgo i testi lo trovate bene guarda Dio guarda Dio è perché è veloce? è per quello che ho scelto è bravo è intensa fai un bel contrattone di quegli altri così che... e cosa fai nella vita? geometra è una 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 geometra noi ti auguriamo che questa sia quella buona e via andare figli 5 o 6 e via è tutto fatto uno uno viaggio di Norte si ha deciso dove? Mauritius Mauritius ehi la... fa le cose in grande e in grande stile fantastico allora visto che sei un geometra qui c'è il comment quiz che pratica è un giochino se tu inovini si applica questa parola difficile è bici o predire ok? dimmi la parola difficile la parola difficile è... si faggeta cos'è una faggeta? non lo so ci sei stato ultimamente in una faggeta? no beh è un bosco di faggi ma ti vogliamo bene lo stesso buona serata buon divertimento ciao ciao ciao